Mangiamo solo cibo del colore della nostra sciarpa! Ma dove sono le vostre sciarpe? Scusate! Eh, non lo so! Senti, come facciamo a fare la challenge se non avete la sciarpa? Ma Roby, non mi hai detto di portare la mia sciarpa! Va bene, non ti preoccupare, ci penso io! Vai, vai! Dato che non avete portato le vostre sciarpe, allora dovrete trovarne una nuova! In giro ci sono delle sciarpe, quella che trovate indicherà il vostro colore! 3, 2, 1, cercate! Allora, mi sono incastrato! Ma, vede, ma cosa combini? 1, 2, 3! Ho trovato la mia sciarpa! Buon per te, per la prossima volta! Non incastrarti nei mobili di casa mia! Ma se era là dentro! Proviamo a vedere nel forno! No, niente! Vediamo nei cassetti! No, qui no! Uffa! No! Uffa, se non trovo nessuna sciarpa non mangerò niente! L'ultimo! Una sciarpa! Che ci fa una sciarpa tra le buste? Bella mia! Devo assolutamente impegnarmi perché inizio ad avere un sacco di fame! Sciarpa, dove sei? Non so proprio dove cercare! Forse si trova nell'armadio! Vediamo! Ma questa qui è una sciarpa! Questo deve essere il mio colore! Ma dove può essere? Ho cercato ovunque! E adesso mi rimane solo questa stanza! Uffa! Uffa! Dov'è? Eccola! Non viene! Uno, due... Ce l'ho fatta! Eccola! Bene! Adesso che tutti avete le sciarpe del vostro colore, possiamo dare il via alla challenge! E quindi vi meritate il primo cibo! Che bello! Queste sono le mie caramelle preferite! E sono rosse come la mia sciarpa! Sono proprio fortunata ad avere questo colore! Oh, buffa! Io invece, guarda cosa mi è uscito! Mi sono uscite delle olive verdi! Io odio le olive! E poi, amici, lo sapete che ci sono alcune persone che mangiano l'oliva senza sputare il nocciolo! Io non so proprio come facciano! Non mi piacciono per niente! Ehi, Penny! Guarda che mi è capitato! Un limone! E' asplistivo! Mamma mia, Fede, non ti invidio per niente! Guarda che faccio! Vabbè, a me invece è andata benissimo! Perché ho avuto del Power Red Blue! E lo adoro! Sapete che cos'è questo? Questo è un gomitolo di lana! La stessa lana di cui sono fatte le vostre sciarpe! Il vostro compito sarà arrotolare tutto il filo! Il primo che riagomitola tutto il filo vince un cibo! 3, 2, 1, vi raccomitolate! Questa tattica me l'ha insegnata mia nonna! Vincerò io! Oh no! Io non ho una vera e propria tattica! E guardate qui cos'è successo! Io utilizzerò la tecnica del ninja! Guardate! Devo essere riuscissima! Va sano, va piano e va lontano! Miei cari concorrenti, vi ricordo che non vince solo il primo che fa un gomitolo, ma anche chi lo fa meglio! Quindi fatelo con molta attenzione! Cosa? E adesso me lo dici? Oh no! Così non ho possibilità di vincere! Togliti! Oh no! Togliti! Amici! Guardate! Il mio gomitolo di lana sembra un po' pionno! Piano per andare lontano! Piano per andare lontano! Oh no! Devo ritrovare il seno! L'ho fatta di fatta! Come faccio a ritrovarlo? Uffa! Dov'è? Dov'è? Ma questo è il filo fluo di Benny! Benny, cosa hai combinato? Ehi Luna, spostati dal mio filo! Mi hai fatto perdere l'inizio adesso! Oh no! Ci sono quasi! Ci sono quasi! Ecco fatto! Ho finito, signor conduttore! Hai già finito? Ok, allora! Allora, dato che Danny ha finito il suo gomitolo, il tempo è scaduto per tutti! Vediamo il risultato! Ok Benny, fammi vedere il tuo gomitolo e... Ma che cosa hai combinato? Questo non è neanche un gomitolo, Benny! Lo so, ho avuto qualche problemino! Qualche problemino! Anche un po' più di qualche! Beh sì, forse molti problemini! Andiamo avanti! Tranquilla, questo qui te lo riagomitolo io! Il filo rosso? Luna? Ma perché c'è il tuo filo rosso in mezzo al filo blu di Benny? Non lo so! Anche tu non puoi essere giudicata! Per dire che... Pensavo che avrebbe fatto un buon lavoro con la tecnica della nonna! Dani! Eh? Dimmi! Questo c'è questo gomitolo? È troppo stretto! Non ci puoi fare una sciarpa con questo gomitolo! Però almeno lo hai finito! Quindi ti do un 6! Solo un 6? Ma questo è un fantastico papion! Sì, sì, un papion! Dovevi fare un gomitolo, non un papion! Tu non capisci proprio niente di arte! Sì, certo! Dovevi fare un gomitolo, non un'opera d'arte! Eh! Ciao, Labbi! Ma ancora qui stai! Eh sì, un pochino! Questo è il mio gomitolo! Ma è un po'! A quanto pare lince Dani con un misero 6! E finalmente è uscito il nostro fantastico, bellissimo super libro! Dani e Robby a caccia di guai! Amici, è bellissimo! Dovete leggerlo tutti quanti! Ordinatelo ora su Amazon! Trovate il link qui sotto! Ah! Chissà cosa mi capiterà di buona! Eh? Dell'insalata! Eh? Io adoro l'insalata! E poi è super salutare! Certamente le vostre sciarpe sono già bellissime! Ma chi decora meglio la propria sciarpa vincerà un cibo! Dani, io non ho mai decorato una sciarpa prima d'ora! Beh, nemmeno io, ma non vedo l'ora! Ho già tantissime idee in mente! Ehi Luna, mi raccomando, non copiarmi anche perché io sono un grandissimo disegnatore! Certo! Io che copio da te! 3, 2, 1, disegnate! Non vedevo l'ora di fare una super opera d'arte! No, no, no! Io sto facendo un mare! Io invece sto disegnando tantissime foglie verdi! Guarda! Queste sono le mie onde! Io invece disegnerò tantissime foglie! Guardate! Questa è già una prima foglia! Che ne dite, amici? Vi piace? Io disegnerò tantissimi cuoricini! Rossi, come l'amore! La prima cosa a cui ho pensato è stata la Luna! Chissà perché! Non so perché! Mi sento osservata! Vede, smettila di guardarmi così! Eh, continuo a fare le lune! Eh, cosa? Disegni delle lune! È proprio bella Luna! Aspettate un momento! Ma? Non mi vorrete mica dire che Fede è innamorato di Luna! Allora, scrivete qui sotto nei commenti cosa ne pensate! Tempo scaduto! È il momento di giudicare! Mi presento, sono il giudice Robby! Mia cara Luna, mi esponda pure la sua sciarpa appena decorata! E questi sono i miei cuori! Perché l'amore vince su tutto! E io vincerò! Eh, effettivamente è molto ben decorata! Eh, lo spazio è riempito molto bene e il rosso è un rosso molto vivo! Brava! Otto! Otto! Che bello! Ottimo, ottimo! Andiamo avanti! Mia cara Dani, mi esponda la sua sciarpa verde! Beh, io ero verde! Come la natura! Quindi ho disegnato degli alberelli, delle tartarughe, delle foglie e poi ci ho scritto Dani! Dove sono le tartarughe, mi scusi? Eh, c'è proprio una tartaruga! Questa qui? Sì, esatto! È proprio quella! Non ci siamo, non ci siamo signorina Dani! Innanzitutto gli alberi non volano! E poi non ho mai visto una scritta Dani nella natura così in cielo! Quindi le darò un 6! Se è applicata non potrebbe fare molto di più! Uffa, ma ma si può sapere perché mi do sempre 6 conduttore? Non vincerò mai così! Eh, perché tu sei come sei! Andiamo avanti mia cara Dani! Salve! E cos'è questa? Questo obrobrio! Come cos'è questo? È un mare in tempesta! È chiarissimo, no? Un mare in tempesta? Sì, mi vorrei anche dire che questi triangoli qui sono le barche! Ma che non sono delle barche? Sì! Per me è soltanto una grandissima barca fumante di cacca! Un due le do! Ma come ti permette? Io sono il grande giudice di Sharpe Robby! Venga qui! Sono delle lune? Sì, tante lune! Ma come luna? Come luna? E le stelle? Le stelle non ci sono! Volevo segnare solo! Lei sta pensando un po' troppo a luna secondo i miei gusti! Luna! Ok, allora le darò uno perché così hai l'uno! L'uno? Sì, io sarò l'uno e sarò con l'una! Sì, ho vinto dei lamponi! Però non li ho messaggiati! Vediamo come sono! Sono gommosi! E sono buonissimi! Fede! Eccomi! Benny! Eccomi! Voi due fino ora avete mangiato meno cibi rispetto agli altri! E' vero, infatti! E quindi per voi ho preparato una challenge bonus! Ma non esultate così in fretta! Perché uno di voi con questa challenge bonus potrà cambiare il colore alla propria sciarpa e vincere nuovi cibi! Ahah! Non c'è ombra di dubbio! Vincerò io, Fede! Chiaramente vincerò io! Vedremo! Chissà che cosa ci sarà qui dentro! Infatti non ho proprio idea! Soltanto chi resisterà alla patatina super ultra piccante potrà cambiare il colore alla propria sciarpa! Buon appetito! Mamma mia! Già si vede che è super piccante! Guarda, Benny! La mia patatina pulsa! Basta! Voglio cambiare il colore della mia sciarpa! Quindi la mangerò senza pensarci due volte! 3, 2, 1, via! Ma dai, non è così piccante! Pensavo molto peggio! E quindi non è piccantissima, vero? No, tranquillissimo, vai! Perfetto! E' super piccante! Picca! 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 Ho bisogno di acqua! Acqua! Ah! Che pappamolle, Fede! Complimenti! Non hai fatto neanche una minima sborbio con la patatina super piccante! Quindi hai diritto alla sciarpa rosa! Che bello, rosa! Il mio colore preferito ci sta quante cose buone, mangerò! E ovviamente, siccome hai vinto una challenge, hai anche diritto a un cibo! Il tuo primo cibo rosa! Oh, finalmente del cibo buonissimo! Non esistono cibi buoni col blu! Amici, voi ne conoscete qualcuno? Wow, Benny! Queste fruttelle sono buonissime! Lo so! Ehi, non essere invidiosa! No, Benny! Io non sono invidiosa della mia migliore amica, tranquilla! Meno male! E' il momento di una nuova sfida! Indossate la sciarpa senza usare le mani nel miglior tempo possibile! Chi le indossa in meno tempo vince un cibo! Allora, con la testa non va bene e... No! Facendo con i denti! Si, bene! Con i denti è la scelta migliore! Ho avuto un'idea, Fede! Secondo me dovresti rotolarti su per spesso! Rotto! Rotto fortissimo! Rotto! Tratturato! Vai su, su! Rotola! 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 Oh oh! Forse non è stata la scelta migliore! Fede non è riuscito a indossare la sciarpa! Quindi è squalificato! Beh, non posso usare le mani! Ma chi ha detto che non posso usare i gomiti? Oh, geniale! Geniale, Ben! Geniale! Ok! Lo ho ferrata! Lo devo ferrata! Ok, gira! Gira! Ok! No! No! Prova! Ce l'ho fatta! Guardi! Ce l'ho fatta! Guardi! Centro! Beh, più o meno l'ho indossata! Questo è uno stile alla francese! È il mio turno! Non posso perdere! Guardate che tecnica infallibile! Userò i piedi! Sì? Uhuh! Guardate! Vai Dani! Io credo in te! Forza che ce la fai! Ti aiuto! Ti reggo! Forza Dani! Ti reggo! Vai! Ma ce la fai! Di più! Ma è infallibile! Oh no! Oh oh! Ma adesso è a terra! Basta! Ci rinuncio! È impossibile indossare la sciarpa senza mani! E voi amici? Ci avete mai provato? Provateci anche voi e fatemelo sapere nei commenti! Non so cosa inventarmi! Proverò con la bocca anch'io! Qui al centro? No! Faccio un po' più lì verso la fine! Ok! Vado! Ora ruota! Sì! Così! Bravissima! Un altro po'! Un altro po'! Un altro po'! Oh! Ah! Perfetto! Ce l'ho fatta! Mi sta abbracciando! Eh! Mi sembra abbastanza chiaro! Complimenti Luna! Hai vinto un cibo del tuo colore! Wow! Quanto è rosso questo yogurt! È lo yogurt più rosso che abbia mai visto! Eh, Luna, però dobbiamo parlare di una cosa molto importante! Hai visto, Fede, come ti guarda e com'è dolce nei tuoi confronti! Credo proprio che si sia innamorato di te! Eh? Cosa? Eh, sì, sì! Si è innamorato di te! Facci più caso, ok? Ma no, non è vero! Amici, se volete che Luna e Fede si fidanzino, iscrivetevi al canale! Il primo che completa il percorso con le gambe legate dalla sciarpa vince un cibo! 3, 2, 1, saltellate! Ma è difficilissimo! Spostati, Penny! Dani, non hai possibilità di vincere! Non mi spingere! Oh, non mi faccio vedere! Spostati, Penny! Che disfettosa! Già è arrivato al traguardo! Oh no! Mi fa proprio che ho perso! Uffa! Eh! Dani passa il primo turno! Avanti con il secondo! Allora, potrei vincere e quindi dimostrare a Luna che sono il più forte! O magari potrei farla vincere! Oh no! Ma io ho fame! Sono bravissima! Ho già superato Fede! Bravissima Luna! Hai vinto! Eh? Come? Ma quando è iniziata la gara? Questa è la finale del salta salta fino al traguardo! Siete pronte? Prontissime! Sì! Date il massimo di voi stesse! 3, 2, 1... E... Via! Andate! Salto! Salto più forte che posso! No, sono io più veloce! Oh, non capisci proprio niente! Ehi! E voi amici, se volete che vinca questa challenge, iscrivetevi al canale! E... Oh! E voilà! Ho vinto! E grazie amici per esservi iscritti al canale! Ho vinto grazie a voi! Non ci posso credere Kitty! Tutta questa fatica per avere del pesto! Cioè, non è che non mi piaccia! Solo che non avevo voglia ora di mangiare questo! Ma meglio che niente! Però... Non è affatto male, lo sai! Ne vuoi un po'? Ah, no, giusto! Voi conigli non mangiate il pesto! Si può sapere perché mi avete chiamato! Io sono un conduttore, sapete? Eh sì! E ci devi anche aiutare! Perché sto sbocciando l'amore! L'amore? L'amore! Capito bene! Non ditemelo! L'uno è fede! Sì! Eh, avevo capito qualcosina! Però non pensavo a questo livello! Dobbiamo farli fidanzare! Ci state? Eh, non posso farli fidanzare! Però ho una challenge bonus che potrebbero fare loro due! Potrebbe riavvicinarli! Ma è perfetto! Sì, sì, sì! Ecco! Qui la mano! Eh, sono un conduttore, non posso unirmi con i concorrenti, scusatemi! Ma avevamo una missione! Luna! Chi? Fede! Eccomi! È il momento di una challenge bonus! E poi, sì, qual è? Dovranno mangiare delle caramelle super speciali! Vi dico solo che chi farà meno smorfie otterrà la leggendaria sciarpa arcomaleno! Luna, lo sai che con la sciarpa arcomaleno possiamo mangiarci tutti i cibi che vogliamo? Sì, che bello, Fede! Wow! Ma a me sembra una normalissima caramella! Eh, infatti è vero! Vabbè, proviamo! È aspettissimo! È forse il limone più aspro che abbia mai mangiato! Oh, Benny, sta funzionando! Guarda, si stanno per baciare! Lo sto vedendo! Secondo me ci siamo quasi! Oh, che aspro! Stop! Ma che cosa fate? Entrambi avete fatto delle facce bruttissime! Non vi siete per niente impegnati con questo foggio così! Che vi dovete dare per caso un bacino? No, era troppo aspro! La sciarpa arcomaleno la terrò io! Non ve la siete meritata! Oh, uffa! Oh! Ma cosa ha combinato, Robby? Non si va mai fatto i suoi! Preparate i vostri muscoli perché è il momento di una challenge di coppia! Tiro alla sciarpa! Squadre in posizione! Verona! Allora, 3, 2, 1... Scrivete qui sotto nei commenti quale squadra vincerà e... Via! Dai, facciamo! Tira, tira! Dai, che stiamo a giù a partire! Facciamo! Ma non avete scatto! Guarda, vai! Dani, forse è un'idea per vincere! Davvero? Cosa? Da, guardare! Fede! Ma lo sai che Luna ti guarda con gli occhi dell'amore? Ah? Cosa? Ah, Luna! Ma che fai? Perché hai lasciato la sciarpa? Non ce la faccio! Dani! Alvina, tira! Uno, due, tre, tira! Oh, accidenti! Fede! Che cosa è successo? Abbiamo perso! Oh, no! Ma come è potuto succedere? Sì! Abbiamo preso la sciarpa! Quindi pensate che entrambe mangiano un cibo, vero? Certo! Assolutamente no! Soltanto un cibo per challenge! Quindi, battaglia finale! E siete pronto? Mi dispiace, Benny! Ma non ti lascerò vincere questa volta! Lo vedremo, amica! E allora... 3, 2, 1, tira a te! Ma quanto sei forte! Wow, Benny! Ti stai impegnando davvero tanto! Ho avuto un'idea! Ciao, ciao, Benny! È volata! Però, effettivamente, ha vinto! Quindi, complimenti, Benny! Benny? Benny! Allora, ho avuto un'idea! Almeno ho vinto! Mamma mia, amici! Che dolore! Mi fa ancora malissimo la testa per la botta! Ma almeno posso mangiare del cibo rosa! Questi sono dei biscotti buonissimi! Che buoni! Li amo! Ah! Per l'ultima challenge non si vincerà del cibo! Ma la gloria è eterna! Perché sarete voi a votare qui sotto nei commenti chi sarà il più bravo a ballare con la propria sciarpa! 3, 2, 1, diamo inizio alle danze! Amici, se ancora non avete visto il videoclip della nostra canzone sotto incanto andatelo a vedere e ascoltatela su Spotify! Veloce è sempre tanto Con te mi sento come se fossi sotto incanto Mi senti vero bella, gioisce e salta Appoggia la tua mano, aspetta e ascolta Il cuore che fa boom boom forte è solo per te Il cuore batte e fa boom boom forte è solo per te Non puoi fermarlo Boom boom forte è solo per te Il cuore batte e fa boom boom forte è solo per te Dai e rollo! E adesso ballo freestyle! Se stringi la tua mano forte alla mia Tu sei la mia luce, bella e brillante Con te un'eternità, sai mi sembra un istante Non importa dove andiamo Tutto va bene E allora chi ha ballato meglio? Ciao a tutti amici e amiche di Dani e Robby Oggi ho pensato ad una vera challenge Amici e amiche Io non lo sapevo E adesso non voglio più partecipare a questo video Quindi Dani farà la challenge da sola! Arrivederci! Robby torna Ecco appunto Obbligati! No Vieni qui che devo spiegarti la challenge Va bene Dani Che challenge è oggi? Una challenge Dolce versus salato Una challenge Paradiso versus inferno Una challenge Con del cibo spettacolare E del cibo buonissimo Insomma Robby Hai capito di cosa sto parlando? Mmm Onestamente Dani? No Dovevo immaginarmelo Bene Robby Oggi ho pensato di fare una challenge Kinder versus McDonald per 24 ore Mmm Kinder Versus McDonald Ma che coppia da strana Dani Un attimo Dovrei mangiare io McDonald per 24 ore per caso? Sì Robby Dovrei mangiare un McDonald per 24 ore Eh un attimo Dani Ti fermo subito Eh Perché? Non so se i nostri amici e le nostre amiche se lo ricordano Ma lui se lo ricorda sicuramente La nostra guardia l'ha visto il video in cui mangiamo 24 ore solo McDonald E lui si ricorda com'è finita Anzi flashback Dani Torniamo a casa Dani Dani torniamo a casa C'è Non sto sentendo bene per niente Dani No 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 Robby 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 Ah già è vero Allora piccoli detective Se non avete ancora visto quel video Mi raccomando andatelo a vedere E non dimenticatevi di iscrivervi al canale Quindi Dani L'unica soluzione è invertirci Io farò Kinder E tu farai McDonald Che dici? Ah Scripondete qui sotto nei commenti Voi cosa preferireste mangiare per 24 ore? Solo cibo Kinder o solo cibo McDonald? Scrivetelo qui sotto nei commenti Vediamo chi vince Colazione Sì Robby E per colazione Guarda qui cosa ho scelto Un Mc Crunchy Bread alla Nutella Beh Buono Ma un secondo Dani La Nutella Non è Kinder La Nutella è Kinder Quindi non puoi mangiarlo No no Robby Sulla Nutella Non c'è scritto Kinder C'è scritto Ferrero Quindi posso mangiarlo E appena è iniziata questa sfida Eppure già penso Tu stia barando Non lo so Ragazzi Scrivete nei commenti Se Dani può mangiare la Nutella Io comunque Ho la Kinder E la Kinder È il king Delle colazioni Ed è dolci E di tutto Cioè la Kinder è buonissima Perché che ti mangi? Kinder Brios E sai cosa faccio sempre Con le mie Kinder Brios? Cosa Robby? Oh Che Ma 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 ti vedi? Ti vedi? Non posso neanche risponderti Che ti sporchi tutta Ma Robby è scoppiata la Nutella Dal panino Sì è scoppiata Ti ascolto Ti ascolto Il cowboy In che senso Scusa Alza le mani Questa qui è una rapina Ah Oh mamma mia Ma tu davvero sei impazzito? Ehi Dani Non sai giocare Quando uno ti spari Tu stai con le mani in alto Devi fare la porta Che uno ti colpisce Riproviamo Ah Alza le mani Questa è una rapina Ok Ah no la pulizia Ah bravissima Mi spieghi per quale ragione Stai lì seduta vicino l'albero? Beh Robby non te lo posso dire Perché ti ho fatto già il regalo di Natale Lo sai E questo qui? Ok allora Adesso lo prendo e lo apro Robby non ti permettere di toccarlo E poi si sta avvicinando l'ora di pranzo Quindi puoi non mangiare oggi? Ma quindi mi vuoi dire che davvero In quella scatola c'è il mio regalo di Natale Dani Sì Robby ma in questa zona Ormai non ci puoi più accedere Soltanto io posso Ma perché c'è scritto Vietato entrare ai Robby Non ho capito Sì esatto Robby Perché qui sotto Io lo so Che tu sei uno spione Quindi ti vieto assolutamente di accedere In questa zona Scoverò il mio regalo Tant'è che mi chiamo Robby E Dani Che ne dici di andare a mangiare? Tu adori mangiare vero? Hai ragione Robby Per questo pranzo Ho delle cosine molto buone Ovviamente del McDonald's La Kinder non può battere il McDonald's Lo vedremo Raga è arrivato il momento Dani sta preparando tutte le cose Per registrare la clip Mentre mangiamo a pranzo E adesso io Andrò a vedere Il mio regalo di Natale Secondo voi ragazzi Cosa mi avrà regalato? Ecco qui la scatola Oh non vedo l'ora Robby 3 2 1 Dani Dani Ma 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 Questa scatola È vuota Ehm No Robby Qui qui c'è Ma è nascosto il tuo regalo È un po' invisibile Però ti assicuro che è molto bello Ah Ho capito tutto Dani Eh sì Scusami Robby Non volevo mentirti Sapevi che avrei Spiato il regalo E quindi l'hai Nascosto da un'altra parte Ah sì Davvero furba Dani Eh eh È vero È proprio così Non è vero che Non te l'ho comprato Semplicemente L'ho nascosto Eh sì sì Questa volta Devo ammettere Dani Me l'hai proprio fatta Piuttosto Vedo che hai preparato Tutto quello che ci serve Per pranzo Già sento l'odore del Big Mac Che bontà E voi ragazzi Quando andate al McDonald's Di solito Quale panino scegliete? Scrivetelo qui sotto Nei commenti Sai cos'è questo cappellino Dani? Eh Sembra il cappello di Babbo Natale No Lui è Mimmo Guarda Mimmo Il Il pupazzo Kikinder L'ho chiamato Mimmo Non so perché Però È simpaticissimo Vero? Ed è pieno Di Di le cornie Ho letto questa parola Sul dizionario Chissà che significa Le cornie Significa cose buone Come quelle del mio McDonald's Senti Che odorino Robby E poi vedi Quanti strati Ci sono Qui dentro È veramente Bellissimo Buonissimo Buon appetito Dani Oh mamma mia È veramente È veramente Scusito Allora Sul cartello Dice che c'è Un Babbo Natale Di cioccolata Un uovo Di ciocco bombs C'è tutto Qui dentro Ma che cos'è Dai Robby Sono curiosa Aprilo Ho un problema Dani Guarda Se tiro da qui È chiuso Se tiro da quest'altra parte È chiuso Questo come lo apro Scusami Lascia fare a me Ci penso io Oh mamma mia Quante cose buone Ci saranno dentro È così Lo Robby Non l'hai rotto Guarda qui Robby E impara 3 2 1 Mio Non puoi mangiarlo È tutto mio Dani D'accordo Però mi raccomando Robby Aprilo Fai vedere Cosa c'è I nostri piccoli Detective Allora C'è Ma no Io volevo Babbo Natale Invece c'è Il Popazzo di neve Questo lo chiameremo Popo e pupazzo di neve Popa Popo Popo Perché Popo Popo è più Da Tipo Da un orso L'orso Popo Non da pupazzo di neve Vabbè Poi abbiamo Una mini bustina Di ciocoboms Di ciocoboms Poi ci sta Una mini scatola Di kinder cioccolato Poi c'è anche Un ovetto Sorpresa Kinder sorpresa Roby Ma è vero che mi prometti una cosa Che darò Fermo Non ti darò la sorpresa Neanche se mi paghi E allora sai che ti dico Che sei davvero antipatico E non mi vuoi davvero bene No Dani Tu al posto di prendere il panino super gigante Del Big Mac Potevi prenderti L'Happy Meal Con la sorpresa Invece hai scelto il panino gigante Quindi Hai ragione Dani Questo è il metodo Che uso io Per spaccare Il kinder sorpresa Boom Con la testa Perché mamma Ha detto Che quando non riesci a fare una cosa Devi usare la testa E quindi Io lo sto usando La lettera Roby Penso che tua mamma Non volesse intendere quello Oh Che figo È una sorpresa Che si monta E penso sia Natalizia Voi ragazzi Preferite Le sorprese Che si montano Oppure quelle Già montate Tipo pupazzetti Ho finito Di montarlo E non ho neanche utilizzato Le istruzioni Perché io so Che sono un vero Piccolo detective E guardate che figo E posso mettere L'albero di Natale Credo Oh Che bello Roby Me lo dai Per favore Va bene Ma puoi perdere la sfida Oh Hai perso la sfida No Adesso non la voglio più Ci ho provato Dai Amici piccoli detective Siamo a metà pomeriggio E Dani è andato a fare Lo spuntino da sola Cioè Io l'ho spiata E ho visto che ha iniziato A mangiare Però non mi ha chiamato Quindi adesso Le farò un bello scherzetto Anzi Le farò Una Kinder Mega Sorpresa Esattamente Questo sarà il mio Spuntino E adesso Sbatterò Questo uovo in testa A Dani Kinder Sorpresa Eh Cavolo ragazzi Forse ho esagerato Con la botta Guardate qui Come è ammaccato Questo uovo Eh Dani Oh cavolo ragazzi Mi sa che è svenuta Dani Se è davvero svenuta Potrei mangiare Un po' Del suo McDonald In effetti Mi sono un attimino Stufato di mangiare Solo cioccolata Questa mattina Ma prima Devo controllare Che sia davvero Svenuta Eh Allora Prima le do Un pizzicotto Qui Eh No Niente da fare Poi tento Di muoverle La testa Quest'altro braccio Niente Ci sono Ci sono Dani Tu Sei Eh Scema Sei Brutta Sembra davvero svenuta Ok Ho l'ultima arma Se non risponde Se non risponde Se non risponde neanche a questa È davvero svenuta E dovrei anche preoccuparmi In realtà Ragazzi È pericolosissimo Voi non fatelo mai Ad una ragazza Dani Sei per caso Ingrassata Oh cacchio Non mi sta rispondendo Oh Dato che è svenuta Per davvero Posso parare E mangiare un po' Del suo McDonald Basta cioccolata Sfiziosità Cosa si è presa I panzerottini italiani Pomodoro e mozzarella Posso mangiarmene uno E dire che al McDonald Si sono dimenticati Di metterne tutti e tre Sì Farò così Giusto Uno solo E magari qualche patatina Ok Chiudiamo ben benino Buon appetito Robby Cosa Stai Facendo Ma tu non eri svenuta Ma ti pare Che uno sviene Per un nuovo Kinder sorpresa Stavo facendo Soltanto La finta E comunque Ho sentito Cosa hai detto Eh lo sai E ho visto Anche quello Che hai mangiato Ok Effettivamente Ho sbagliato A barare Però mi ero Stufato la cioccolata Ok Allora Io Vado via Perché ho perso Va bene Ciao Che mi importa Della challenge Mi hai detto Che sono ingrassata Quindi adesso Vieni meglio Dovente qui L'ultimo Che smette Di mangiare Cibo Giapponese Vince Mille euro 3 2 1 Inizia la sfida Guardate Quanti ne abbiamo E sono Tutti Snack Giapponesi Questi qui Dani Sicuramente Saranno buonissimi Perché c'è scritto Robi Credo che Il giapponese Non si parli Così E comunque Ciao Tutti E benvenuti In questa nuova Challenge Io sono Dani E io sono Robi San Capito Robi San Perché oggi L'ultimo Che smette Di mangiare Cibo Giapponese Vince Mille euro Stai molto Attenta Dani Perché quando Inizieremo A mangiare Poi Non potremo Più Fermarci E Robi Ma Se poi Una cosa Non mi piace Me lo sono Sì ok Iniziamo da questi Sono super curioso E dal momento In cui Inizieremo A mangiarli Non potremo Più Fermarci Dovremmo Aprire Uno Stack Dopo l'altro Finché Qualcuno Non si arrenderà Secondo voi Chi si arrenderà Per primo Scrivetelo Qui sotto Nei commenti Di cosa Adorano Non lo so Robi Non mi sa Tanto di biscottino O la fragola Buono Però Mangerò E ditele anche a me Devo assaggiarlo pure Devi Ok ma questo L'hai tutto salivato No Robi L'ho leccato pochissimo Guardate che carini Non so se si vedono Ma sono dei piccoli panda No Non si vede niente così Lo farò vedere io Guardate Sono dei piccoli panda Io vado Robi Eh un attimo Un attimo Allora anche io Ma come sono Strani Oddio Coccinelle Sono buonissimi Sono cremosi Cremosi alla fragola Sono spettacolari Ma che si a dici A me onestamente Non è che Mi facciano impazzire Ma Ma il biscotto Della parte Poi c'è il super dolce Della fragola Che sembra una Big bubble Ma Robi Comunque dovrei Continuare a mangiare Altrimenti perderai Questa challenge Non so Vabbè È un'idea Vado a prenderne un altro D'accordo Vengo con te Lei è Dani Lui è Robi Noi siamo Dani e Robi Vai con il cimo Giapponese Yeah E allora Io Assoggerò Questi qui Guardate Quanto sono Giapponesi Questi Cosa sono Le istruzioni Mamma E gli ingredienti Allora C'è Il Chakopopo E poi c'è anche Il chingilun E Non so il giapponese Robi Guarda che hai Solamente Cinque secondi Prima di perdere Questa challenge Oh oh Già È vero Dani Questa è una challenge Dove l'ultimo Che smette di mangiare Vince Quindi devo mangiare Ma come sono chiusi Dammi il secondino Tre Sto mangiando la carta Due Sto mangiando Sono chiusissimi Uno Sta bene Sono spettacolari Davvero Robi Guarda Mamma mia Sono buonissimi Sono dei biscotti A forma di hamburger Con dentro però Il cioccolato Sto volando Sono già a Tokyo Ecco Sono a Tokyo Oh le luci Che bello Davvero Robi Sono buonissimi Fammi assaggiare No tu No no Erano miei Buonissimi Sì A me piacciono Ma Robi Hanno un retro gusto Di cacca Come di cacca Ragazzi Anticocinelle Fidate di me Perché fanno Schifo No i tuoi panda Fanno schifo I miei hamburger E cioccolato Sono buonissimi Aspetta un secondo Robi Guarda qui C'è tipo una storia In giapponese Qui dentro Oh una storia In giapponese No Dani Io ho capito Che cos'è Sei tu Che non hai capito Guarda Questo qui È un Trova le differenze Ci sono due immagini Bisogna trovare Le differenze Che stanno tra i due Ah D'accordo A noi non ci interessa Dobbiamo Dai a nemmeno buttare Il mio gioco Ragazzi È arrivato Il momento Di queste caramelle Qui Che stai mangiando tu Sì Robi Sto mangiando Sei tu che non stai mangiando No no ma io ho preso queste Che adesso le mangiamo assieme Allora Guardate qui Queste caramelle Sono particolarissime A parte che hanno le tutte Scritte in giapponese Ma in realtà Ci sono tre caramelle Due buonissime Ma una schifosa E noi vedremo Chi mangerà Quella schifosissima Adesso ne proveremo uno Gli altri Li proveremo Su TikTok E Instagram Quindi Iniziate a seguirci Per vedere Le altre challenge Quale vuoi fare adesso? Sceglierò Ad occhi chiusi Robi Ok Ok Tutte Questa Oh oh Ha scelto Questa tipo arancione Vediamo un pochettino Speriamo di non beccare Quella dal saporaccio Magari Bettiamo tutte e due Quelle buone Eh sì Può essere Ragazzi guardate A guardarle Sembrano tutte quante uguali Ma una ha un saporaccio Robi Ho un'idea Magari odorandole Si capisce No Sono tutte uguali Ok Allora ne prendiamo Una al tre Ok Ok Uno Due Tre Io questa qua Io questa Ok Io ho scelto questa di qua E lei questa di qua Quella al centro Nessuno dei due Inizio io Robi Andiamo assieme Ok Tre Due Uno Lasciate un bel like Iscrivetevi al canale Se ancora non lo avete fatto Robi ho un po' Un'idea Dove scambiare la tua mia No 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 Ok Tre Due Uno Da Penso sia buona la mia Adesso forse no È buona Ma è buona anche la mia Quindi è questa quella cattiva Sì Non ci posso credere Dani Sasso carta forbici E chi la piglia D'accordo Sasso carta forbici Sasso carta forbici No Coccinelle Robi ha perso la sfida Quindi dovrà mangiare La caramella schifosa Non ci credo che ho perso Ok Però non hai barato Quindi mangerò questa caramella Che l'ultima è rimasta schifosa È sprissima Posso smutarla Ha di un colore strano Robi ma non può mitare Che schifo Devo bere qualcosa O mangiare qualcos'altro Per levare questo brutto sapore Dalla bocca Coccinelle Indovinate chi è stata la più fortunata Sì Indovinate chi non sta mangiando nulla Quindi sa per perdere questa sfida No 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 Ok Che hai preso Fai vedere cos'hai preso Fettuccine Fettuccine Come le fettuccine Non lo so Robi Non so neanche se sono dolci o salate Ok Io invece scelgo I I Waffer Oreo Perché Così è uguale oreo Quindi sì Guardate questo Oreo però Coreani o giapponesi Non lo so Robi Sto per svenire dalla puzza Puzza no Sono Puzzone Ok Sono fettuccine Puzzone Mangiale Sembrano delle gole Adoro Io invece Dani Fin dall'inizio di questa challenge Ero curioso Di assaggiare Gli I I Waffer Oreo Giapponesi Mamma mia Secondo me saranno buonissimi Guardate qui Hanno la forma lunga Non me l'immaginavo così Sono sincero Corri Robi Stanno cambiando sapore Come stanno cambiando sapore All'inizio sembravano i normali Waffer tipo I low hacker No li avete presente I low hacker Ma poi A un certo punto Sono diventati Dal sapore di oreo Quindi hanno la consistenza Dei waffer Ma il sapore Degli oreo Sono Spaziali È il momento Di assaggiare Un altro snack Giapponese Robi ma Te sono al gusto Di pizza Com'è il gusto Di pizza C'è la pizza Oh cacchio Ragazzi è vero C'è la pizza Ma un momento Voi avete mai mangiato Una pizza Tipo col pomodoro A fette sopra Ma no Ma cosa combinano i giapponesi Guardate che strani che sono Io invece Robi Assaggerò questi Mikado e cioccolato Ma in versione Non sono Mikado Sono i pochi Sono i pochi Ok E quindi non ce ne sono molti Non puoi condividere Perché sono pochi Ah sì Robi D'accordo Sono curiosissima Eh la confezione È un colore strano Sì È tipo marrone Però sembrano Molto buoni Anche dalla confezione Guardate Quanto sono sottili Forse si ficcano Anche nel naso Ok devo Sono dei piccoli spadini Come sono? No C'è il cioccolato fondente Aspetta però Che io soggimi E la pizza Sto cacciando I miei Stecchini Alla pizza La mia pizza Preferita È La diavola Invece Qual è la vostra pizza preferita Scrivetelo Qui sotto Nei commenti Non dovevo farlo Questa cosa Mi stai dicendo Che puzza tantissimo Mi sta venendo Da lacrimare Per la puzza Che schifo Non scherzo Ragazzi Io non ho mai mangiato Una pizza Con questo odore Robby vedi che devi mangiarli Altrimenti io vincerò la sfida E perderai mille euro Sì ma senti che odore Oh che schifo Hai visto Ma hanno proprio schifo Li hai presi tu Adesso te li devi finire Io mangerò questi Preferisco molto di più questi Mio caro io Tu vuoi sentirli? È svenuto io Sono rimasto soltanto io A poterli mangiare Robby fai subito a mangiarli Arli Vai tutto Mamma mia Ma cos'è una quattro formaggi? Che è stata un mese sotto il mio letto Non è male Come non è male? La puzza fa totalmente schifo E anche il sapore Ma dopo un po' ti abitui Sai fare una cosa divertente Dani? No Robby Non la so quale Darti adesso un bel bacino Dani? Oh cavolo Mi sa che il mio alito L'ha fatta svenire Ma io so come farla riprendere È molto semplice Questo odore qui sicuramente La farà riprendere Guardate Ma sei impazzito È questo che ti ho fatto riprendere Sono un dottore Coccinelle Non comprate mai Questi cosi giapponesi Vi prego A meno che non vi piacciono i piedi Esatto Questo cibo giapponesi è più pesante di quello che credessi Devo assolutamente andare in bagno Però nel frattempo mi sono preso questi Sento la pizza che sale e che scende Che sale e poi riscende Coccinelle vi devo dire una cosa Robby secondo me si sta per arrendere Perché ogni volta che va in bagno Solitamente si sente male Dopo aver mangiato così tante cose Quindi sono un passo dalla vittoria Speriamo che questi qui Mi facciano togliere quel saporaccio di pizza che ho in bocca Guardate Si chiamano Sweet monster Mostri dolci Che schifo Mostri Hanno lo stesso odore Delle gocciole Ed effettivamente hanno delle piccole gocce di cioccolata all'interno Chissà se sono buone come le gocciole italiane Ma che è sta roba? Penso che il mostro a cui si riferisce sia Aggy Waggy Sembra di star mangiando un Aggy Waggy Unita a una Kissi Missi Che hanno fatto un figlio E quel figlio fa schifo Ma tutta a me Robby Eh? Tutto ok? No Anche questo fa schifo Davvero? Quanto mi dispiace Però Robby Non ti preoccupare Se ti senti tanto male Possiamo finirla qui questa challenge eh Io non mi arrendo Continuo a mangiare Cucinelle invece io ho provato questi oreo giapponesi Ma che sono buonissimi Ve li consiglio Anzi Scrivete nei commenti tra i cibi che abbiamo mangiato Quale conoscete? Sono totalmente dissidicato Vorrei qualcosa di italiano E soprattutto qualcosa di buono Che non sia dolce O che sappia di pizza arancida Questa sfida fa schifo Dani ha beccato tutto il cibo buono E io quello schifoso Così non vale Cucinelle questa sfida è bellissima Avremmo dovuto farla tanto tempo fa E soprattutto si conoscono un sacco di cibi Giapponesi che non avevo mai visto prima d'ora Robby Non stai mangiando nulla Come non sto mangiando nulla? Mi è rimasto solamente questo Un altro pacchetto della challenge delle tre caramelli Di cui una fa schifo Mangerò questo Ma giuro Che se mi esce di nuovo la caramella che fa schifo Io mi arrendo Non mi importa dei mille euro Forse ci siamo Cucinelle Se Robby prenderà la caramella che farà schifo Ha detto che si arrenderà E lo challenge sarà vinto da me Queste sono tre Prima quella schifosa era centrale Ma anche adesso potrebbe esserlo Ok Userò il metodo super scientifico Ambarabaccicicocco Tre civette sul comò Che facevano l'amore con la figlia del Dottore chiamalo Ambarabaccicicocco Scelto Robby? Sì Sì Dani Ho scelto Questa sicuramente sarà buona E' uscita questa qui Ti prego Fa Che sei buona Ma che non sia buona Ho preso di nuovo Quella che fa schifo Ma che è sta sfiga? Sì Ho vinto la challenge Robby Devi darmi mille euro Che c'è Dani? Ho vinto la challenge E mi devi mille euro Pure? Robby Dimmi Dani Mi potresti prendere qualcosa di dolce Che ho parecchio fame? Qualcosa di dolce? Vorrei dire salato Se hai fame Ti mangi qualcosa di salato No no Tu lo sai che io preferisco il dolce vero? Infatti questa cosa non l'ho mai capita È molto meglio il salato del dolce Dolce? Tutta la vita Salato Dolce Salato Dolce Sai questo cosa significa vero? Credo proprio di sì Robby Nuova challenge Per dimostrarti che il salato è molto meglio del dolce Mangerò per 24 ore solo roba salata E io invece per dimostrarti che il dolce vince sul salato Mangerò per 24 ore solo cose dolci Mi raccomando ragazzi iscrivetevi adesso al canale Per non perdere più nessunissima nuova challenge di Dani e Robby Ma vediamola allora questa tua super colazione dolce Io farò una combo super dolce Combo super dolce? Sì Robby infatti hai cereali che sono già super dolci Aggiungerò la mia amata Nutella La Nutella sui cereali? Sì è super buona Vediamo se mi riuscirei a battere con la tua stupida colazione salata Ma batterti è semplicissimo Quella tua colazione è troppo dolce Io invece mi preparerò un salutare e buonissimo panino Infatti ho due fette di pan carré Del buonissimo prosciutto È molto salato e soprattutto molto buono E in più la mia combo prevede del parmigiano Reggiano guarda qui Delle scaglie grossissime Che mi daranno una super energia Per iniziare la giornata Ragazzi votate voi Qui sotto nei commenti Se è più buona la mia colazione salata Oppure la mia colazione dolce Robby guarda che inizio senza di te Che buono Non vedo l'ora di iniziare questo spuntino Per spuntino ho preparato una combo dolce buonissima Infatti insieme al mio cornetto alcida Mangerò i miei amati Oreo Che delizia questa combo La uso come una palettina E poi me la mangio da sola Che bontà Oh sì sì questo spuntino Ma hai iniziato senza di me Sei proprio una maleducata Dani Ti mangi del gelato con l'Oreo Dani ma con tutti questi zuccheri Diventerai super esaltata Cioè non dormirai stanotte Esaltata ma cosa stai dicendo Io sono solo carica di energie E quindi posso ballare Posso fare Posso dire Fare tante cose Quindi direi che i zuccheri non mi fanno male Esattamente quello che intendevo Vabbè fatti tuoi Tanto perderei questa challenge Io ho preparato una combo salata buonissima secondo me Infatti mangerò delle Pringles Guarda super salate e croccanti Insieme della maionese Mamma mia che bontà Non hai speranza Ragazzi Quale spuntino è migliore? Il mio con patatine Pringles e maionese? O il mio con cornetto alcida ed Oreo? Un problema Del tipo salato E se può venire un sacco di sete Lo so Robby Infatti sono proprio curiosa di sapere tu cosa ti berrai Ti ricordo che anche le bevande devono essere salate Ti ricordo che anche le bevande devono essere salate Lo so lo so benissimo che anche le bevande devono essere salate Infatti bevo dell'acqua L'acqua non è né dolce né salata Quindi è neutra e non posso perdere la sfida con dell'acqua neutra No Robby deve essere salata altrimenti perderai la challenge Infatti io mi berrò della Coca Cola che è super dolce Ma dai non è possibile che dici questa cosa Guarda so io come fare Ecco qui la mia arma segreta per farti stare in silenzio Questo è sale Quindi metterò del sale in acqua E adesso è acqua salata E com'è Robby? Salata Non ti invidio per niente Che buona la Coca Cola Ed ecco te il tuo piatto di pasta Anche se Dani non ho capito Come renderai quel piatto di pasta? Un piatto dolce Come prima cosa aggiungerò delle scaglie di caramella frizzante Ecco qui Sulla pasta Sì Robby Guarda sembra pancetta Invece dolce Poi aggiungerò delle gocciole sbricciolate Per dare un po' di croccantezza E per aumentare la bontà del mio piatto ovviamente Croccantezza Bontà A me sembra solamente una schifezza Lo so Robby Che parli solo per invidia Ma in realtà Questo piatto non è ancora finito Come non è ancora finito? Il mio cuore da italiano è amante della pasta Ho un po' paura di quello che stai per fare Solitamente sulla pasta metto il sugo Ma questa volta aggiungerò del miele No il miele no ti prego Sì sì Il miele no Guarda che buono Pasta con pezzetti di caramella frizzante Biscotti gocciole sbricciolati E miele Ragazzi per favore aiutatemi voi Scrivetelo qui sotto nei commenti È una combo che fa schifo Non può essere buona Io invece al posto della normalissima pasta Al sugo Al ragù E tantissime cose che potevo scegliere Ho scelto della normalissima pasta A cui aggiungerò il mio amatissimo sale Amato sale E poi un po' di salame Fatto a pezzettini Ragazzi dovreste provarlo Perché è un piatto super semplice Eppure super gustoso E soprattutto Salato Su Dani Assaggia Sono curiosissimo di vedere la tua faccia Tanto lo so che farà schifo Non capisci davvero nulla Che buono Questo pasto è buonissima Ed è per veri amanti del dolce La stai davvero mangiando Vabbè Io proprio non ti capisco Non so come fai E poi Credo sia La pasta meno salutare che esista Voi ragazzi Non esagerate con i zuccheri Su ragazzi Scrivetelo Qual è la pasta migliore La mia o quella di Robby Ma questa è una battaglia scontata È ovvio Che vincerà la mia Sono mortissima Sono bellissima Ma si può sapere cosa stai facendo Robby sono pieno di energie Anzi Sai che ti dico Adesso mi alleno un pochettino Uno Due Tre Ecco ragazzi Quello che vi dicevo Troppe zuccheri Fanno male Dai adesso Libera te Ma chi la ferma più Mi raccomando Chiara quando è pronto Non vedo l'ora che finisca questa challenge Almeno Dani tornerà normale Comunque è pronto il nostro spuntino Anche se credo che sia meglio che tu non lo faccia Che buono che buono Che buono che buono Tutto per me Una torta variegata con panna Marshmallow Ed è memenze crispy Penso che mangerai più zuccheri tu adesso con questo spuntino che io tutta la settimana scorsa E tu invece che schifezza salata ti mangerai Guarda che non sei tu a scegliere qual è il piatto migliore ma i nostri amici commentando qui sotto E comunque mangio quella che credo essere la combo più salata che esista Ossia un letto di crackers con patatine Dei salatini I poi crostini E poi ci sono anche le aracchie di salate E poi altri crackers Cioè c'è davvero di tutto Tutte le cose più salate che esistono E però dovrò bere assieme dell'acqua salata Anzi fammi aggiungere un po' di sale Che sennò poi tu dici che non è abbassata salata Buon appetito In realtà non so da dove iniziare Perché non c'è una base quindi Non so mangerò una patatina con sopra crostini, arachidi, un po' tutto E' un mezzo pauroso E' buonissimo Davvero dici che è buonissimo? No 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 A me piacciono i dolci io mangerò solo dolci Anzi devo bere un po' di coca cola Stai Dani Dovrebbero fare una busta Che contiene già questo mix Perché è assurdo Adesso potrò fare un mini panino salato Mettendoci un crackers Una patatina Un crostino Un salatino E poi un altro crackers Guarda che bel panino super salato Non ci credo che è più buono il tuo spuntino rispetto al mio E secondo voi ragazzi qual'è il più buono? Qualcuno a quanto pare ha lasciato il sale Ho un'idea per far perdere Robby Cambierò questo sale Con questo zucchero Così vincerò io questa sfida Presto Prima che Robby se ne accorga e tenga qui Bene Questo è il sale Devo far veloce Devo far veloce E adesso Inserirò lo zucchero E più o meno allo stesso livello del sale di prima Direi che va bene Dani Sei davvero geniale Dani Hai per caso avviso il mio sale? Perché non ce l'ho intaccato Ehi Perché hai tu il mio sale? Robby calmati Te lo stavo soltanto chiudendo meglio Chiudendo meglio? Era già chiuso bene Non mi dire che ti hai scocciata di tutto il dolce E vuole un po' del mio sale Lo sapevo Hai imparato E adesso hai perso Assolutamente no Lo sai che io non paro mai Quindi adesso lasciami stare E devo fare le cose mie Va bene E non prendere più il mio sale Non sospetta di nulla Finalmente è ora di cena Questo hamburger è cotto a poltino Invece guarda io cosa ho preparato Una piadina con della nutella super dolce Guarda che buona Robby Sì Aspetta un secondo Non riesco a me per la tutta Deve essere in quantità industriali Dani ma sai cosa significa Il troppo stroppia Troppa nutella Il troppo dolce Bleh Non c'è altro modo per definirlo Solo bleh Sei proprio un ignorante Io mica esagero Proprio non conosci niente Hai davvero appena svuotato Un'intera confezione di Smarties Sulla piadina che già aveva anche troppa nutella Hai ragione Prima non avevi esagerato Adesso hai esagerato Comunque Robby Non credi che quel tuo hamburger sia troppo poco salato? Che ne dici di aggiungere un po' di sale? Scusa Ma pensa al tuo di cibo Al mio cibo salato Ci penso io L'hamburger non necessita di ulteriore sale È già abbastanza salato mia cara Buonissimo Anche senza aggiunta di altro sale Se non metti il sale Quello hamburger sarà troppo dolce E quindi mangerai cose dolci E quindi perderai la sfida Io ti ho avvisato eh Mangiare cose troppo salate Fa male esattamente quanto mangiare cose troppo dolci Però guarda non ti voglio più ascoltare Ho qui il mio amatissimo sale E adesso per farti contenta lo verserò qui sopra e mi mangerà un hamburger anche troppo salato Però vincerò la sfida Vai vai Robby Voglio proprio vedere Non capisco perché sei così strana Non mi hai mai chiesto di aggiungere dell'altro sale ai miei cibi Vabbè vediamo com'è Non ho mai mangiato un hamburger troppo salato Vediamo Dai su mangio Sai che stavo pensando Dani? Ma lo vuoi mangiare sì o no? Sentiamo cosa vuoi dirmi? Che se tu finisci quella piadina e io finisco questo hamburger Finiremo in pareggio E quindi sia il dolce che il salato saranno entrambi i cibi buonissimi E nessuno dovrà perdere Robby Hai perso la sfida Ma non mi dire no no Dani no Questo è zucchero Come hai potuto Dani? Tu hai rovinato il mio hamburger salato Hai perso Io te l'ho detto che dicevo Ragazzi ho vinto Mi dispiace Vincere Barangol non equivale a una vera e propria vittoria Vero ragazzi Io che volevo pareggiare e dire che sia il dolce o il salato erano buoni Adesso hai rovinato tutto Parli proprio da perdente Intanto Il dolce ha vinto No Dani Saranno tutti i nostri amici iscritti a decidere Secondo voi Chi ha vinto Il salato O il dolce Consigliateci qui sotto nei commenti anche la prossima challenge col cibo che potremmo fare io e Dani